Se vuoi chiedere questi che noi Nego aquee laire qui è in giro Vona nico i capitano mi reno Satora come and счettino Delirà come and yayo Vekira ga gaita mai dhali E Da ro ro, no kio ma dhahi Achan charoi nere meandha Ptwod E Saanoni o yotso ragi ya puuwa Il nostro corso www.mesmerism.info 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 Musica 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 Musica